Ciao a tutti, sono Manuele Meschino, 33 anni e vengo da Latina, dove sono nato il 24 luglio dell'82. Sono un 4, all'occorrenza gioca anche da 5. Negli anni passati mi hanno definito come un giocatore che lotta, un combattente, che dà tutto per la squadra e questo è anche il mio obiettivo di quest'anno, voglio cercare di dare tutto il possibile nel rettangolo di gioco. Come tutti si aspettano da noi, l'obiettivo di quest'anno è quello di vincere il campionato e ci stiamo lottando, ci stiamo allenando duramente ogni giorno per arrivare a questo, già da adesso, già alla preparazione. Una cosa importante è che per raggiungere i grandi obiettivi c'è bisogno anche dell'aiuto del pubblico. Quindi vi esorto, insomma, tutti quanti a venire numerosi il sabato sera a vedere le nostre partite per arrivare alla promozione. Grazie.